15 secondi 10 secondi 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 19 19 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 24 25 25 25 25 26 27 27 27 28 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 28 28 28 29 30 30 29 30 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.